l'atlantico in questo periodo è molto pimpante da ovest di fatti nel corso di venerdì ci manderà l'ennesima perturbazione come ci mostra questa mappa delle pressioni una zona di bassa pressione si scaverà proprio venerdì sera tra sardegna e tirreno e poi sarà in viaggio nel weekend verso il centro sud e diciamo che il nord vedrà tante nubi di passaggio ma sarà quasi del tutto risparmiato qualche fenomeno venerdì solo su piemonte liguria e alco alpino andiamo nel dettaglio di fatti in sintesi del weekend perché sabato a rischio sardegna sicilia poi gran parte dell'estate tirrenico ma guardate perché qualche piovasco proprio tra sabato e domenica sarà in marcia anche sulle nostre regioni del sud insomma è un periodo ancora tratti bagnato servirà l'ombrello il nord invece riparato guardate qui da dall'arco alpino dettagli come sempre sull'app gratuita di tre bimeteo